Il segreto di quel magnifico giardino mi aveva intrigato a lungo, quella sera dovevo risolvere il mistero. Nel giardino c'era una festa e mi intrufolai. Nessuna esitazione, qualche sguardo sospettoso. Dovevo trovare l'artifice di quel triunfo di fiori e di migliaia di rose. Dovevo scoprire il suo segreto. Quella donna misteriosa era la chiave dell'enigma. In me si è accese il fuoco della tensione. Finalmente avrei avuto la risposta. Era semplicissimo. Checchila. Affrontai il problema alla radice.